Buongiorno, in questo video parleremo del ricatto affettivo del genitore narcisista. Partiamo dal concetto che colui che ricatta in genere è una persona incoerente, bugiarda e subdola. Il figlio di un narcisista viene quindi annichilito nella propria personalità e tenta a sviluppare un'insicurezza di base che si poggia proprio sulla paura dell'abbandono e quindi sul senso di inadeguatezza. Così tenderà ad affrontare il mondo con la convinzione di non essere abbastanza qualificato e questo si tradurrà in comportamenti autosabotanti, mentre all'interno di una relazione sarà portato a prendersi cura dell'altro in modo totalizzante, dipendendo dal partner per avere una qualche forma di gratificazione personale. Però nutrirà una profonda insicurezza di base che cercherà di compensare, di mistificare con la falsa grandiosità oppure con l'onnipotenza e quindi l'egocentrismo. Molti altri video come questo nel mio canale YouTube Roberto Ruga, psicoterapeuta. Inoltre vi informo che faccio consulenze psicologiche online con la videochiamata. Per richiedere una consulenza dovete mandare un messaggio scritto su WhatsApp al numero 338 16 92 473. Come funziona la consulenza? Vi suggerisco di dare un'occhiata ai miei libri che sono ordinabili soltanto attraverso Amazon. Buona giornata.